E oggi parliamo della nuova programmazione 2014-2020. Noi diciamo come Ance che bisogna cambiare approccio. I decisori pubblici devono vedere quali sono veramente i fabbisogni, quali sono i progetti che servono al territorio. Se parliamo di rigenerazione urbana, se dobbiamo recuperare un'area degradata, un quartiere degradato o degli interventi diffusi, vediamo quali sono i fabbisogni di quel territorio e andiamo a fare le azioni per prendere all'interno dei fondi strutturali. Rovesciamo la logica per cui ci sono dei fondi per l'efficienza energetica come li utilizzo, ci sono delle cose per l'housing sociale come li utilizzo, se ci sono dei fondi per la mobilità urbana come li utilizzo. Rovesciamolo, perché le amministrazioni devono ricominciare a pensare e soprattutto a fare cose molto concrete che servono ai cittadini, che servono ai territori per far partire al sud come al nord, visto che i fondi poi, quote diverse, sono dappertutto. Questo è un po' quello che noi cerchiamo di predicare. È chiaro che il sistema imprenditoriale è disponibile, ma qui l'approccio è delle amministrazioni locali, in particolare, o delle regioni, laddove... Insomma, si deve cambiare passo davvero da un punto di vista dell'approccio con i fondi strutturali. C'è per esempio il PON metropolitane, anche lì sono interventi importanti, non sono tante le risorse. Noi diciamo che ci deve essere una cabina nazionale che interloquisca con i sindaci e i capologhi di provincia comunque delle città metropolitane. Noi, insomma, proponiamo, abbiamo proponato anche i disegni pubblici, un po' il modello francese, dove c'è un'agenzia nazionale per il rinnovo urbano e delle agenzie territoriali, dove cercano di capire e mettere in fila i fabbisogni sul territorio e concentrare le risorse lì dove servono. Che significa? Significa mettere in fila più interventi all'interno di un'area, per esempio, e cercare di fare il tiraggio sui fondi per quella finalità che si intersecano. Cioè, se devo recuperare un'area degradata, serve la strada, serve il parcheggio, serve la scuola, serve l'efficienza energetica, c'è tutto. L'importante è che lo concentriamo in un percorso ragionato.